C'è la volontà di una ripresa forte dell'azione amministrativa che è stata aggredita da più parti, io credo che abbiamo un assetto che però dovrà quadrarsi attorno a un fatto, un governo di legislatura, fatto da gente di buona volontà che conosca il suo mestiere e lo sviluppi fino in fondo, certamente, è un'alleanza che resista al tempo, ma non perché io voglia vincolare per l'eternità un gruppo di partiti, di persone, ma perché per realizzare un programma riformista che sarà il vero fattore di selezione di questa alleanza, per selezionare un governo riformista ci sarà un programma riformista la cui attuazione richiede non sei mesi, richiede anni e siccome riformare vuol dire rivoluzionare abitudini, modi di fare, un andazzo che ci vede saccheggiati da secoli vuol dire cambiare la testa di noi stessi, non c'è dubbio che le reazioni che subiamo, che abbiamo subito e che subiremo io in prima linea sono apocalittiche, forse qualcuno crede che qua si sta tranquilli e sereni a conversare con l'aria condizionata, a leggere qualche giornale e a prendere qualche decisione, qua è il fronte, la frontiera esposti a mille aggressioni, a mille granate e bombe atomiche continuamente cercando non soltanto di sopravvivere ma di far vincere la Sicilia fin quando ci stiamo, ci stiamo per questo bandendo le comodità, i lussi, i vizi, gli interessi personali e quant'altro si può accompagnare al potere del governo o del governatore.